Dimmi tu, dimmi tu quando posso prendere il play Devi proprio fare l'intro, vuole il play Ah è giusto, ma no niente, non c'ho voglia di farla questa intro Allora salve, ci dimentichiamo sempre di fare l'intro e quindi questa volta la faccio io Perché sono una persona intelligente che assolutamente non si è dimenticata anche stamattina di scrivere un intro No no no, proprio no 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 E niente, io sono Gaia E io sono Jay Bene, oggi siamo attrezzate, munite di... Panzoletti Anzi, aspettate Vuoi vedere il panzoletti? Vabbè, niente, faremo una reaction a un nuovo video di BTS Life goes on Ma non per noi, probabilmente dopo questo video E niente, adesso premiamo play e cerchiamo di non piangere troppo Allora, mo metto il schermo intero quindi non ti vedo Ok, non fa niente, tanto non c'è niente di bello da vedere And I hope that, you know, people remind this world of myself and I hope they can love their themselves more That's it Dove si mette schermo intero su coso, su Watchtube? E penso che devo premere prima play Allora, l'intro della Big Hit serve a darti il tempo di mettere lo schermo intero Oddio, dove si mette lo schermo intero? Ok, 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 paura, paura Oh, Gesù Ah, già iniziamo bene Madono, quanto è bello Madono Eeeh, che bellissima vuoi, però No, ancora Allora, questo lo sa Ma la faccia è dai No, ma che fai, butti la pizza così, Jin Ma è bella Ma no, road trip Ma no, road trip Ma no, road trip Oh, che carini Oh, no Ma no, piccolino Sono troppo triste per il fatto che non ci saranno le promozioni Oh Jimin guarda, lo so come lo guardo io Che carini No, ma io con questo maioncino è troppo bellino Ma no, è bellissima No, no, ma è la venue del concerto No, 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 credo Non l'hai fatto davvero Ma guarda come dorme Jimin Non l'ha fatto da cielo Ecco qua Ma bello, Jin, guarda, è Iterio Un angio No, vai giù No, vai giù No, vai giù No, vai giù No, questa è proprio una cazzimata Uhhh No, non hai fatto No, io ho paura di leggere il testo Ma no 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 Sto tipo tremando No 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 Io che mi sono truccata a fare Che ho messo a fare il mascara Ok, no, Deo, no Io rido per non piangere Chiari raggi sui video Gioco che no Gioco che no Gioco che no C'è breve C'è breve E' doloroso Doloroso Come sai Come sai Mi vedi? Mi vedi? Ti vedo che stai piangendo Ti ausi l'altro schermo Io non so come ho fatto a non piangere Perché in internet sto piangendo Ma Sto ancora Sto ancora processando Cioè che lui sta in macchina a vedere La cosa delle Ma le cose che devo fare così Io non so Io pensavo chi l'ha scritto Jungkook Jungkook Ok Gaia Vai con i sottotitoli Che sono brutta Comunque Jungy ha fatto una referenza a People Perché ha fatto Mh 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 Tempere Perché dici queste cose? Eh perché io noto Amo questa canzone Ma no Già questo è ingresso Già iniziamo male Oh no Ah basta questo spring Non cantare della piove Ma bella aspetta Ho bisogno di un secondo Cosa metti un po' Aspetta Ho bisogno di un secondo Aspetta Cosa stai facendo Devo mettere Devo metterti un altro Ok Cosa sai Ok ci sono Ci sono Avevo bisogno di più Dove processare Ma no Ma sono troppo bellini Che bello vedere tutti e sette insieme Ma cosa sta facendo Jungkook insomma Maro, io mi sento male Però mi dà un senso di conforto questa canzone Ah, per la por di Dio, Giù Però che caccia Ah, quanto è bello Giù Si vede che c'è il poppo di John Cook comunque in questo video Lo denuncia Come sono soffettini Che belli Maro, Yunghi Timmy, Yunghi, Timmy Ma non c'è uno dietro Le transizioni tra Oso e Yunghi Sono sempre bellissime ovunque Ma arriva, io sono pronta Ah, no, no, fai il gira di norma Guardare, non guardare Non è fai fai Ma non è fai fai Ma amore, no Ma sti che dormono Mi fanno dormire in queste posizioni su tutti No, no, no Fermiamo il video qua Fermiamo, fermiamo No, no Ma no 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 Questo video sarò pieno di no No, no, no Tu mi ricordi Io sto al concetto Mi ricordo quando mi sono truccata 10 minuti fa No, no, no No, no No, no No, no Non mi guardare così E poi che poi finì Cioè, meno male che finisce qua No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Lo fai piangere Lo fai piangere? Se vuoi il problema Se vuoi il problema Tu me no Ok Se vuoi il problema che mi viene in mente Sì Che dovevamo andare al concerto E poi si è successo No, no Allora Io non lo volevo dire Muntatelo 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 Zitta Taci Taci Cioè, già me l'hanno ricordato loro Che dovevamo andare al concerto Che po' No, oddio Ho detto no Non volevo piangere Ho cercato tutto il video E non piangere Ebbene Ebbene Gianghuk ha detto No Devi piangere Ho detto no Dovete soffrire Io sono sempre così Io sono sempre Io non ho mai parole Perché ogni volta È fantastica È tutto È tutto Bello Perfetto Cioè Poi soprattutto diverso dal precedente Come si fa È bellissima Cioè, questa canzone È proprio la canzone Che serve Come devo dire Ma no Io non lo so Cioè Allora Ecco la cosa Ok, ok Abbiamo pianto Però io ho pianto Perché ho pensieri miei Ma In generale la canzone Da quel senso di Conforto Cioè, non te lo so spiegare Nella serie siamo tutti quanti nella stessa situazione alla fin fine Cioè, ti senti meno solo Guardando questo video Non so come spiegare la sensazione Perché comunque li vedi così In pigiama In pigiama Sì, ma io adesso Io mentalmente sono ancora per Matteo che stai guidando No, quando si gira Quando si gira Perché si girava Quella faccia E io beh Quindi dovevi girare Ma quando guidi Devi guardare la strada Non devi guardare Non devi guardare I vintorni Magari che ne sai Stavo alla guida E teneva le canzoni Tipo Teneva microcosmos In sottofondo Gaglia Tess No, non so neanche chi sono Allora che c***o Guarda qua Lo sbada a streammare Bommo Benissimo Cioè, non so come sentirmi Perché sono Non ho Non riesco a connettere In questo momento Non so come mi sento Io sono ferma lì Sono ferma lì Oddio La cosa è che Magari quando Gino chiude gli occhi Si addormenta E quindi Quello è un sogno collettivo Tutti e sette Cioè, stanno sognando Tutti e sette la stessa cosa Perché loro sono connessi Loro sono connessi Ma ti rendi conto? Allora Ma quanto dura Perché veramente Pure questo è volato Perché volano sempre i video di BTS Non è possibile Non mi sono 2 minuti No, 3 minuti e 50 Dove? Dove 3 minuti e 50 Pare che sono 2 minuti Guarda, io sto fremendo Che devo ascoltare l'album Che dobbiamo Ok, a my euro A my euro Dobbiamo sentire l'album A my euro Vabbè Concludiamo questo video Ovviamente Come al solito Streamate la canzone Come faremo Anche io e Laura E il resto dell'album? Esattamente Anche il resto dell'album E Laura Laura Un canale In cui fa cover Vocal cover Dance cover E niente Se volete fare un salto Sul suo canale Prego Accommodatevi Vi lascio il link In video E vi lascio il link A fine di questo video Nell'altro Qualcuno ha cercato Di aprire la mia porta Non potete entrare E' il tempo di soffrire per BTS E noi andiamo ad ascoltare l'album E Prepariamo Facciamo Guarda che devasto Io già sento il devasto Lo senti Ma io ho paura Io ho paura di sentire le altre nazzoni Tu non capisci Ho proprio una No andiamo Andiamo Ok Ragazzi ci vediamo al prossimo video Addio Bye Sto portando ogni tanto in camera Perché ho paura che Finisce la memoria E smette di registrare Ma Mi fai ridere Tu piangi Ma pensi comunque alla telecamera Sto registrando Sto registrando Sto registrando No A哪 만 Sto registrando